Va tutto bene, non ci sono problemi, bisogna continuare, bisogna continuare a far vivere la città. Va tutto bene però, però c'è qualche problemino, problemino sulle variazioni di bilancio che dovrebbero dare la copertura all'azione amministrativa e sembra che i consiglieri comunali di maggioranza abbiano qualche perplessità e a nulla stanno valendo nelle riunioni le spiegazioni degli amministratori, del sindaco facente funzione e del responsabile politico dell'amministrazione su questi problemi, stante anche le dichiarazioni contrarie però sulle delibere finanziarie dei revisori di conti che hanno messo a preoccupare il gruppo di maggioranza. Riunioni continue, quotidiane, per tentare di risolvere il problema e dare garanzie. Ma alcuni consiglieri comunali, più di qualcuno però, è preoccupato ed è irremovibile, non si vogliono correre rischi. Per cui la seduta di consiglio comunale che era stata convocata nelle ultime ore, è stata rinviata domani alle ore 19 e ci saranno i consiglieri comunali di maggioranza? Ci saranno i consiglieri comunali che si convinceranno di non correre rischi personali sulle delibere da approvare, visto che i revisori hanno ancora espresso il loro parere negativo sulle delibere proposte e sembrano irremovibili su queste dichiarazioni. Domani pur verrà e si vedrà. Chi si presenterà alla seduta consigliare voterà favorevolmente. La situazione è inutile nascondersi dietro il dito, è grave. Si è in una crisi profonda dalla quale non si sa come si uscirà. E non ultima, fra le tante cose che sono state dette e si dicono, sembra che ci possano essere addirittura vere e proprie sorprese domani in sede di consiglio comunale. Qualora la maggioranza, per la quale basterebbero pochissimi voti, in quanto come abbiamo detto la seduta è in seconda convocazione, dicevamo sorprese che potrebbero essere addirittura le dimissioni del sindaco facendo funzioni. E cosa succederà in seguito? Credo che lo vedremo nel 2020. Ma consentitemi una digressione riflessiva. È già rotto il sogno? Si disgregherà in così poco tempo la coalizione? Ricordiamo a noi, ma anche a tutti gli interessati, che maggio è alle porte. Ed il Paese è stanco di vivere ed assistere a furbizie, belleità, a presunzioni e a poco o scarso realismo. Buon anno, buon anno a tutti, innanzitutto alla città ed anche alla signora la Marchesa a cui abbiamo fatto riferimento l'altro giorno, per la quale una volta tanto non tutto va bene. Buon anno e se ci riuscite buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.